Puoi avere più di un animale di potere? La risposta è sì, però dipende molto anche dalla tradizione a cui fai riferimento. Ti faccio un esempio. Se pratichi la tradizione andina dei Keros, è normale per te avere tre animali di potere, che come ho detto in un altro video, sono i rappresentanti dei tre mondi sciamanici. Ma in altre forme sciamaniche, in realtà, normalmente, hai un unico animale di potere che ti accompagna nel tuo cammino, soprattutto quando sei all'inizio. Può succedere, però, che anche in questi casi tu possa avere due barra tre animali di potere. Normalmente questo succede se sei uno sciamano o comunque se pratichi già da diversi anni costantemente. cioè è legato anche alla tua evoluzione personale. Quindi, assolutamente sì, è possibile avere più di un animale. Ovviamente ogni animale avrà una maestria, avrà un insegnamento da portarti, avrà delle caratteristiche specifiche che ti rappresentano.